allora 1 2 3 prova signori buonasera a tutti ci siamo siamo in fase di registrazione perfetto allora eccoci qua benvenuti allora con questo primo video andiamo a vedere innanzitutto le differenze tra le roulette e andiamo a vedere innanzitutto che cos'è quella italiana partiamo con l'italiana per poi arrivare alla francese nei prossimi video all'inglese europea quindi andiamo innanzitutto su bet italy sul conto gioco così dovete anche capire come funziona funziona tutti i tasti del conto gioco e come funzionano tutti i tasti di una determinata sala dal gioco oggi appunto andiamo su casino live ecco qui abbiamo italiani vari tipi di roulette ok ok la prima che ci interessa è roulette italiana gioca ora quindi qui tra i tavoli italiani sono 9 che si trovano in italia vuol dire ok però la tipologia di gioco è la stessa tipo di roulette italiana se qui andiamo più in basso a sinistra c'è roulette o andiamo a cerca possiamo anche scrivere cerca roulette invio roulette normale senza niente aspettate che mi dice italiana no invece voglio roulette e basta ecco qua proviamoci trova bene non lo facciamo da computer facciamo qui roulette secondo tasto si aprono altre vedete altre situazioni sono più di noi sono dodici ci sono altre tipologie di roulette guardate solo questa qui si chiama america roulette doppia double ball doppia pallina istantanea roulette roulette francese gold valut roulette ok lightening e quant'altro quindi ognuno di queste qui da dei bonus diversi da quelli che sono le puntate normali quindi appunto per capire tutto ciò in siamo oggi col primo video andiamo a tavoli italiani roulette italiana cliccando su sul logo roulette italiana si apre ecco qui il gioco quando si apre qui voi per entrare nella sala dovete inserire un importo può anche magari di 10 euro io adesso metto tutto l'importo che sul conto per entrare non gioco perché poi quando esco l'importo me lo ridà nel credito in alto a destra quindi per entrare comunque vado così entriamo prima cosa da fare allora in alto a destra abbiamo il tasto volume la prima cosa che io vado di solito a chi sei vedete a se volete cliccare con un clic lo annullate con un altro clic lo regolate ci serve per sentire proprio l'atmosfera della sala buonasera ecco qua sentiamo un attimo vedete il rumore della pallina è solo stop e anche la voce del croupier ok dovete capire questa è il roulette con il croupier italiano ok poi parleremo delle altre perché non sono diverse allora andiamo a vedere tutti i tasti di questa piattaforma quindi in alto abbiamo lobby cliccando sul lobby ci fa vedere qui si avranno programmatic programmatic player società che gestisce questo tipo di gioco su lobby si apre praticamente un menu che ti fa vedere gli altri giochi che in questo momento non ci interessano dovete capirlo così sapete prima di giocare deve sapere utilizzare tutti i tasti signori che si può sbagliare e magari buttare soldi anche perché appunto non si conosce la piattaforma questo è importante quindi che cos'è la roulette differente da francesi inglesi europee lo vediamo adesso già veniva qualcosa c'è tutto scritto su internet ma io vi faccio un bel ripiro quindi questa riconnessione forse c'è un problema di connessione comunque in alto ma se ne va aggiornare dai aggiorniamo il tasto lobby non siamo in grado di connettersi al server forse c'è un problema di linea ma montaneo vediamo un attimo c'è un problema di server penso che dipende da loro questo proprio in questo caso che siamo in video comunque torniamo a casino vediamo un po ricominciata quindi a quel tasto lì lobby vi fa vedere la panoramica delle sale quindi sulla destra che può servire per capire se vogliamo non uscire dal gioco andare direttamente su un altro tasto ok aspettiamo che si carica quindi questa scritta che vi esce pragmatic play quando si inizia ok polenta si c'è stato un calo di linea ora andiamo sul rete italiana ecco la qui roulette italiana gioca bene ecco qui si carica si entra si mette un budget anche tutto da un giorno giocheremo mai tutto ecco qua in alto destra c'è il volume perfetto fanelli lobby adesso lo premo anche deve funzionare forza ecco qui vedete lobby vi fa vedere le dirette delle altre sale e altri giochi lo sceglie il computer vedete a destra ma non ci interessa questo dovete conoscerlo giochi asiatici addirittura baccarat game show roulette sono altri adesso qui clicco sulla freccia a destra lo chiudo ok non serve con l'aprita non sto dicendo così poi c'è il tasto apri finestra chat secondo tasto a destra in alto api finestra chat vede di giocatori le comunicazioni tra i giocatori collegati giochiamo dove sono le ragazze ok va bene cambiamo dealer se non vi piace questo qui che parla o come lavora si può cambiare ma noi con padre pacifico e tecniche poi dirò che vi è riservato non stiamo a vedere chi c'è ma che cosa sta succedendo nei numeri ok quindi qui sono messaggi un messaggio ciao ma non ci interessa perché voi concentrati su voi stessi ecco qui esce il messaggio ciao ok e poi chiudiamo altro tasto assistenza live assistenza per qualsiasi problema informazioni gruppi e giacomo mandato un messaggio ciao cosa posso chiedere se posso chiedere la prima volta ok a cosa serve questa chat lo scopriamo insieme e qui penso che il messaggio va direttamente al gruppo e vedi gruppo energiato vediamo che dice quindi anche questo qui deve saperlo e conoscere questa piattaforma ok vediamo che se ne ci risponde da lo chiediamo ok perché penso che poi arriva una notifica se risponde poi abbiamo qui cronologia oggi non c'è nulla non hai dovuto amostrare precedenti in città nella tecnologia mega roulette a queste che sono le giocate che ho fatto alla vincita che ho fatto cento di due euro vedete ho giocato 6 12 la cronologia di sabato sono giocato sabato mentre giocavo qui vedete ho vinto morto salvato quasi 4000 vedico questa cronologia perfetto poi c'è punto interrogativo aiuto gioco aiuto gioco ecco qui qui praticamente ti spiega come funziona il tipo di giocate che si possono fare il volume impostazioni impostazioni video stream alto medio basso qualità video automatico audio effetti gioco i chat quindi possa impostare però lasciato così ok poi c'è posso vedere o pieno o così perfetto a sinistra stanno scorrendo le vincite quindi ogni volta che la ruota gira e il gruppo dice adesso si può puntare ascoltate part puntate chiuse le gesonfe in francese puntate chiuse si deve attendere per circa dieci secondi che la pallina si ferma e poi possiamo ripuntare quindi qui va a fianco adesso esce il numero qui a fianco sinistra escono le vincite immediate che il computer scelta da 16 hanno vinto 405 euro euro 210 chi ha vinto 63 così via a sinistra quindi ritorniamo a destra togliamo la voce al attimo c'è un problema di nuovo sulla riconnessione togliamo la voce al al cup e andiamo a impostazioni dove andiamo a capire come si gioca poi vi farò vedere come si usa tutta questa questa parte qui in basso dove c'è la la c'è sia a sinistra vedete che c'è la la ruota questa sinistra in basso e come disposta la ruota che gira i numeri non sono in ordine sono in ordine diverso cioè sulla puntata qui sul tavolo al centro c'è il rettangolo ok dove si gioca attenzione problemi linea un secondo solo aspettiamo che si ricarica quindi vi devo dire la ruota dove gira ok è diversa dalla ruota dove si gioca che la ruota dove si gioca c'è lo spazio dove si inseriscono e puntate le fish non è come la l'ordine numerico della ruota attenzione quindi dovete conoscere queste due cose così sapete come puntare e come escono i numeri perché a fianco lo 0 non c'è 123 ci sono altri numeri ok perfetto quindi un attimo solo non si ricarica un attimo solo aspettiamo che abbiamo questo problema probabilmente sto girando il video ok aggiorniamo da primo tasto a giorno vediamo se si se mi si chiudiamo qualche finestra quindi quando fate questo lavoro signori da computer all'inizio vi consiglio di lavorare cioè questo è un lavoro dove ci siete qui il pomeriggio la sera un'ora cercare di portare a casa soldi quello vi insegnerò nell'area video ok ulama ok rientriamo quindi qui questi gruppi vi insegno a capire la sala tutto tutti i tasti quindi andiamo qui ecco qui tornata la voce perfetto la togliamo numero vincente perfetto vedete qui allora qui al centro piazza e due puntate abbiamo 13 secondi 10 9 8 quindi qui io vi dirò le strategie anche di come puntare in velocità perché a volte bisogna ripetere ok ma qui c'è una strategia precisa per puntare per fare puntate su vari sistemi di puntate quella ruota è a sinistra o a destra vedete se ci fate caso lo 0 andiamo qui a destra c'è 0 a fianco c'è 26 32 quindi dovete capire che se io credo su dei numeri ad esempio sul 36 sulla tabellina del 9 che ho svelato su youtube 9 18 27 36 io vado a giocare il vero cavallo poi ci arriveremo vado a giocare qui devo studiarmi la ruota qui vedete e vado a vedere dov'è a fianco al 9 che c'è vedete c'è 22 31 a fianco al 18 c'è 29 7 quindi mi giocherò quel tipo di numeri se voglio fare il vero cavallo se lo faccio qui il cavallo il cavallo dire sì appunto la fiscia al centro tra un numero un altro ma non è come nella realtà la pallina è stata un'altra parte poi non è non è come la parte centrale dove si punta quindi queste cose dovete sapere bene andiamo quindi qui a vedere sinistra andiamo sulla parte sinistra allora qui c'è una freccia circuito vediamo che fa lo toglie eccolo qua al circuito si chiama ok diciamo le cose come stanno circuito meno 2 diminuisce vicini 0 aumenta vicini ok anche questo è per puntare allora i vicini qui dobbiamo capire vedete se vado sul mouse col mouse sopra la circuito chiamiamolo così usiamo i stessi termini il circuito ok a questo al centro invece il tabellone delle puntate quindi parliamo bene la ruota la chiama circuito sempre connessione permettendo vediamo di aggiornare questo tipo di oggi di connessione c'è da questo problema che ne avete adesso nel circuito quindi vedete purtroppo sto entrando riuscendo ma è un mio problema questo tutto qua non è un problema vostro è un problema attualmente abbia fatto dei lavori proprio oggi su internet qui non in ufficio quindi andiamo nel circuito a sinistra vedete abbiamo 1 2 3 4 tipologie di puntate il gioco dello 0 i vicini orfanelli e la serie 5 8 allora il gioco dello 0 in automatico qui se ho punto qui mi punta i numeri vicino allo 0 e merige evidenzia lui adesso vediamo aspettiamo che posso fare una puntata qui mi fa vedere quando con il mouse vado sul gioco dello 0 mi fa mi punta in automatico su quei numeri lì ok quanti sono i numeri del gioco dello 0 a vedere gioco dello 0 quanti numeri quindi facciamo un po di formazione quanti numeri abbiamo di 1 0 eccoci qua vicini allo 0 questi numeri 17 numeri vengono giocati con 7 combinazioni ecco qua andiamo a studiare i numeri vicini allo 0 ecco qua prendiamo un altro sito questo qui non mi piace così lo possiamo capire anche voi possiamo contarli noi ok qualsiasi cosa signori quanti numeri sono sono di meno 17 da 17 troppo abbiamo una linea che va che viene serie di otto numeri scusate ciò che sembra troppo di otto numeri sono otto numeri vicino allo 0 ok ciò fa vedere subito quali sono altrimenti lo dico io vabbè quindi sono eccoli signori mettiamo un po di volume 13 del 13 ci cerchia qui e nella circuito che fa parte la serie 58 la serie 58 sono sono praticamente la struttura del circuito divisa per questi numeri sono otto un po se riprende la connessione purtroppo arrivo subito vediamo se possiamo risolvere questo problema un attimo allora eccoci qua vediamo sarà un problema di mio quindi domanda a fare quali sono i numeri quanto paga giocare i numeri vicini allo 0 ok perfetto allora eccolo qua i numeri vicino allo 0 come funziona perfetto sono otto numeri si tratta di puntare su 16 numeri vicino allo 0 e sullo 0 stesso i vicini signori sbagliate sono sedi sono sedici numeri in totale ok quindi abbiamo torniamo da noi ecco qui mi fa puntare quindi capite bene gioco dello 0 ancora non mi fa puntare le puntate sono chiuse quindi bisogna aspettare bisogna stare a passo con i tempi rosso torniamo a noi signori e signori facciamo un assalto in grande serie allora per semplicità supponiamo di giocare la ruota e ogni fisica non è ora di conseguenza si gioca 9 euro per coprire vicini allo 0 quando si vince se esce 1 17 i numeri ecco i tre casi cosa esce 0 2 3 e centrata la terzina come so che lui e sa vengono puntati due gettori da un euro allora si vince 11 volte ok cioè 22 euro quindi quindi signori i vicini allo 0 dipende come le giocate se le giochiamo in terzina è un conto quindi prima di capire come come andare e noi stiamo aggiornando nel dettaglio dovete capire qui in alto alla freccia signori e signori facciamo un salto in sezione orfanelli con i 20 nero abbiamo 100 numeri esterni e complimenti a tutti voi vincitori come già sono delle scommesse sono la tavola eccoci qua vedete 0 sono questi i numeri qui i vicini sono tutti questi orfanelli sono questi serie 5 e 8 sono tutti questi qui vicini prende ben 17 numeri quasi metà circuito ok sono puntare va bene torniamo da noi quindi andiamo di qua quando si quando paga giocare dipende come appunto come giochiamo poiché su di essere una conda di due gettori da un euro allora si vince 11 volte la cosa nero cioè 22 euro ok signore e signori di una recente ricostrata 26 nero numero alto orfanelli quando parlano i fanelli siamo alfanello pieno il premio di 28 fish se il risultato coincide un cavallo di ma ok quindi qui parliamo già di combinazione non ci interessa quindi prima di spiegarvi questo vi devo spiegare le combinazioni interna esterno ok purtroppo c'è un problema di connessione perché qui se li giochiamo tutti insieme ok se giochiamo tutti di un botto ok si vince di meno la regione 17 numero vinciamo una volta vinceremo un paio di volte un doppio ok e questo voglio dirvi insomma ok cerchiamo andare qui casinò in un po di tutorial mi scuso della connessione ma proprio non riesco a fare i miei complimenti a tutti voi vicino allo zero perfetto sono riaperti del prezzo delle vostre puntate di già capire che noi possiamo giocare con un click tutti vicino allo zero gli orfanelli dove si trovano nel circuito vero si trova un po' adesso un po' sinistra i orfanelli 17 34 e 69 31 14 21 sono orfanelli serie 58 un'altra serie che parte del 58 sono dei cavalli ok quindi qui sono puntati già fatte ok allora eccolo qua vicino allo zero si tratta di una scommessa valida solo per quella francese europea ma non per l'americana americana signori a due zeri in più a un doppio zero in più a 38 caselle non 37 come queste qui perché parliamo di 36 caselle più lo zero ok l'americana 37 più il doppio zero ok in quanto quest'ultima americana appunto hanno composizione differente sulla ruota a due zeri e non è quindi possibile circoscrivere i numeri a 10 anni allo zero che invece visto che ci sono ben due per comprendere che ogni tipo di puntata si tratta necessario sulla ruota di la roulette e pensare adesso come una torta divisa in quattro fette ebbene uno di questi quattro settori è rappresentata vicino allo zero denominati così perché sono 16 numeri adiacenti allo zero quindi puntare sui vicini dello zero significa scommettere su 17 numeri incluso lo zero stesso se osservate la foto potete capire meglio perfetto ok quindi abbiamo detto quattro parti gli orfanelli costituiscono sulla scommessa occupano due piccole fette vedete bianco e quindi le scommesse possibili sui vettori sono 3 6 5 8 orfanelli e 0 per quanto riguarda i vicini allo zero stiamo esaminando vedere incluso lo zero che vanno dal 22 nero al 25 rosso ecco qua dal medico nero a 25 rosso tutto con la fetta verde ok poi come si punta se ci arriviamo ok adesso ok 9 euro per coprire ok abbiamo diventato terzino che qui basta come ci poi ci torniamo dopo signori ok su questa parte qui è un po più complicato non la voglio dire oggi in questo video facciamo magari domani faremo video al giorno torniamo qui perché voglio far vedere quando si vince realmente in base a quello che esce però domani ve lo spiego bene e vi faccio vedere tutte le puntate i tasti sulla destra che mancano purtroppo questa connessione oggi fa così molto antipatica quindi ecco perché domani magari faccio altri video faremo quindi troverete altri video fatti molto lenta rientriamo scusate ma quindi signori non gioco mai orfanelli o gioco dello zero ancora non faccio sto facendo altri giochi ok maglia quindi passo passo vi insegnerò quello che sto scoprendo tutto quello che scopro ve lo insegno e lo giro dei video privati o pubblici privati e pubblici tranquillamente voglio che capiate bene come funziona il gioco prima di andare qui e buttare soldi ok assolutamente torniamo a noi usciamo rientriamo ok quando si esce roulette andiamo su quella italiana eccola qua perfetto ci siamo ok andiamo dentro vai 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 dai puntiamo 10 centesimi ultime puntate mi ha fregato il tempo puntate chiusi e troviamo il volume capisco perché non ti sembra ok ecco qua quindi dimestichezza del settore telecamera eccola qua volume attivato ok 18 rosso signori adesso si punta guardate signori e signori dovreste ricostrano al 18 rosso di centesima di parte della grande vicini nei complimenti per voi ci vedete che sono tutti i numeri lì e fai cavalli per i cavalli ingerzate le vostre aumentiamo a te grazie mille fa questo tasto qui meno 5 diminuisci questo che fa aveva finito guardate guarda in un attimo a te mi ha coperto grazie tutti i numeri vicini lo 0 vedete come sono disposti questa qui non capisco perché non va aumenta vicini però non aumenta vedete va bene giro ormai non si può puntare più vediamo cosa esce il 2 il 2 obb 2 40 cavolo signore signore correnti di questo rando adesso ripetiamo vedete signor qui in basso a destra il tasto delle ripetitori come già sapete delle spesa 90 centesimi grazie a delle vostre puntate grazie paga quasi per tre non dice ottenere quasi per tre ok vediamo che succede male ma dicendo che 100 euro di 300 quindi attenzione non parliamo di grandi cifre questo gioco da zappo ringrazio però non so perché qui meno sei più sei diminuisci aumenta non lo faceva fare vabbè devo capire vabbè 10 centesimi spesa 90 centesimi niente qui sotto è riuscito due altre due 40 eccolo qua signore signori per la seconda ora che non c'è questo non deve capire adesso mi è complimentato ripeti noi come già sapete raddoppia riaperte piazzate le vostre puntate grazie 1 euro 80 raddoppia 360 avete qui il tasto verde mi fa raddoppiare puntate quindi ho messo 0 80 qui sul cavallo 0 32 terzino vedete 12 15 un cavallo vuol dire 2 4 7 a cavallo di vari numeri che formano si che formano tutto il gioco di 10 vedete adesso ho vinto 7 e 20 con ho speso la metà la 360 e se neanche circa paghe il 2 vabbè sto già vincendo qualcosa in più poco ok adesso troviamo sono ora riaperte il volume adesso quindi attenzione con calma per conoscere giocate qui in alto a sinistra meno tendina c'è il numero pieno cosa vuol dire il numero pieno se proprio punto un numero lo becco pieno paga 35 volte in più con un con uno minimo 10 centesimi massimo 100 euro sul numero se possiamo mettere c'è scritto cavallo vuol dire se vado a mettere la fish tra un numero un altro tipo vedete sempre 33 36 mettono la fish al centro così vedete se la tolgo vedete se cliccate aumenta la puntata attenzione quindi non dovete cliccare più volte per toglierla qui a nulla a sinistra il tasto a nulla attenzione premere più volte se avete provato più volte per mettere il vostro denaro quindi a cavallo vuol dire a cavallo tra la linea del numero un altro poi c'è terzina la terzina come si gioca si punta adesso veniamo sull'uno puntate sull'uno diventa solo una terzina si punta qui su questa linea qui si punta la fish in mezzo qui vuol dire deve accoprire tutta questa fila qua guarda 13 33 se lo puntavo vinto che avevo fatto il cavallo tra 33 da server vinto 17 insomma si vince bene ok la terzina poi come è facile vincere questo gioco ma anche pericolo attenzione poi abbiamo la carre carre pagata 81 cioè la fish se voglio giocare 1 il quadrato vedete 1 2 5 4 gradisco un po devo mettere la fish al centro niente non si capisce la fish al centro tra 12 4 all'intersecazione così più il centro adesso ce la mettiamo c'è una prova ok qui c'è la telecamera a destra vede cambia la visuale da una recente ricostrata non mettiamo la piccola serie mica un gratulo con voi vincitori ok puntate attivo a da 10 centesimi al cavallo è che davanti le cavali scuola carri e carri e poi si illumina anche il quadrato ecco qua i quadrati carri vuol dire puntare al centro vede 6 9 5 8 per mi prendi quattro numeri ma vi paga 8 8 a 1 quindi con 10 centesimi 80 centesimi se esce un numero di quelli lì vediamo ho fatto varie puntate vedete questa è la mia mappa giro prende qualcosa 26 vedete 90 centesimi perché signore e signori un salto in zona orfanelli con il senero numero vincente numero base pari quindi a voi vincitori poi c'è la sestina sestina si gioca così qui vedete vedete al centro così della linea prendendo sei numeri e paga di meno ancora paga 51 adesso proviamo volume si entra nella magia della sala poi c'è colonne e dozzina 2 a 1 vedete qui la colonna la dozzina è tutta questa qui è tutta questa qui 3 6 9 12 questa qui 2 a 1 vedete colonna poi il mouse lo dice tutta la colonna propaga poco pari rossa e nero rosso nero vedete tutti i nomi rossi puntate vi ringrazio paga il doppio pari e dispari questa cosa pari o dispari pari o dispari pari o di neuro italiana poi nell'altro resto diverse grazie mille i tappeti per giocare poi c'è la dozzina 118 e 19 36 e metà a metà dei numeri e paga sempre 11 vede qui bene poi abbiamo a destra caldi e freddi 27 il 2 32 31 signori e signori rimaniamo ancora in sezione orfanelli con l'uno rosso numero 500 numero basso e dispari poi vede il gruppo e dice se si è uscito è uscito un fanello il fanello si trova una terza colonna pari di rispari rosso nero quindi dovete capire anche le parole che dice il gruppo perché quando parla alcuni gruppi parlano proprio specifico dei nominativi abbiamo appena detto quindi parlano proprio su come esce qui questo tappeto lo chiamo io il giro qui il tappeto rettangolare parlano di fila colon pari dispari orfanello ok parlano così quindi dove saperlo così dove stare ad ascoltare a che volta non si fa in tempo a vedere vedere così non si capisce non conosci dove vederlo qui dieci però a vostra pallina non si capisce ascoltate vedere ascoltare vedere capire metta forma la prima cosa per mettere i soldi ultimi e perdere qui a destra abbiamo la freccia vediamo statistiche qui ci fa anche un per vedete ci moltiplica per sette che ci ha fatto ho fatto lo 0 per 7 per chiuso per sette che è successo adesso sbagliato esempio per sette perché mia ma qui posso puntare così ho capito con il mouse più rischioso e io riesco a puntare qui poi fanno la ripetizione mi dà lo 0 non mi c'era a posto ho perso 10 centesimi ok niente vedete qui adesso puntate attive guardate le mouse centri questo anno è l'undici nero numero passare di parte della piccola serie poi c'è i numeri a tutti i caldi e freddi caldi nel disegno 2 c'è più frequenti 32 6 due freddi questi anni grazie grazie poi c'è la freccia qui in basso attenzione qui c'è tabelle rosso nero nero il 0 guarda sta uscendo il 51 per cento numero nero pari o dispari più pari che disperi stanno uscendo al pari 1 18 19 36 della serie della dozzina guardate qui dozzine colonne sta uscendo più la terza colonna 34 per cento la seconda 36 per cento la seconda è questa 12 rosso da qui che va da 258 11 14 7 questa 15 rosso questo randone una seconda colonna poi c'è dozzine basso e pari dozzine la prima la seconda la terza rozzina gli aperti colonna 1 2 3 la 2 stracione di più possono anche puntarla a due guardate tac di centesimi poi ripeto 12 troppo 3 euro e scommesse sono chiusi ho messo 3 euro su una dozzina avete con un click senza dare su una dozzina quindi ecco perché dovete conoscere anche come si punta via se esce un numero 258 e così via 11 14 7 14 no 31 nero ma fregato alla fine la pallina è stato il 14 ok e quindi avanti ancora qui posso puntare gli ultimi risultati vedete guardate posso col mouse io vado pensate le vostre attenzione queste qui sono le statistiche degli ultimi risultati che sono tantissime adesso stiamo al 31 quindi questa ultima fila e la statistica ma la trovata anche scritta in basso questi numeri in basso che stanno qui quindi per puntare velocemente si stenga la tabella volta qui perché che c'è 300 500 caldi e freddi qui cos'è round addirittura 500 round questo è più da capire una volta ogni macchina è diverso ok beh facciamo una puntata signori rimaniamo ancora in zona orfanelli con il gioco orfanelli adesso io vado a fare una puntata io i menti a tutti voi vincitori come tipica mia che si sono riaperte giochiamo con una cosa che giochiamo bene giochiamo io gioco le terzine guardate signori io mi gioco delle mie terzine e mi piacciono come se chiusi ecco perché bisogna conoscere la macchina perché bisogna puntare velocemente poi ripetere per un'ora in base a cosa sta uscendo quindi adesso io sto giocando senza vedere i risultati ma qui non giocherei la tabellina del 9 giocherei altro che poi vi dirò in primato ok quindi adesso ho fatto 4 5 terzine gioco di 5 euro io sono fortunato no non sono stato fortunato ok posso provare ancora attenzione passiamo 5 centesimi la serie nei complimenti faccio dei quadrati dei numeri pieni anche vedete 9 18 26 36 con lo 0 la mia scelta questa tabellina del 9 con da su youtube ma anche il 4 e 5 però ho giocato 4 e 50 adesso mi fermo così perché sto giocando per farvi vedere però se è escesso un numero pieno prendo di più è il carnet carre prende otto punto 25 25 rosso è l'unica striscia in base in basso adesso vado devo rigiocare ripeto basta se vedo ho giocato 4 50 non avete paura non abbiate paura di giocare se credete nelle formule che state studiando e poi bisogna studiare i numeri che stanno uscendo in questo caso è per esempio questa è una è una let che non posso giocare troppo a tabellina del 9 perché non sta uscendo già ve l'ho detto quindi però sto facendo per farvi vedere giocare gli altri ho detto e quindi posso studiare se la statistica sia padre pacifico se le formule matematiche di altro ok pallina al contrario 15 15 stavolta ce l'avevo no non ce l'ho ok adesso signori e signori dato che stanno uscendo più neri passo di spari parte della grande serie dei complimenti a tutti voi vincitori 50 per cento come se sono ora riaperte è cambiato come se fa tempo cambiato 48 per cento 50 per cento neri posso che giocare solo i neri però non mi conviene paga poco pare di spese sono anche quelli grazie si sono qualificati abbiamo la seconda linea che paga 33 e la vincita sta sulla seconda la terza linea quindi possiamo fare dei quadrati qui secondo e terza lì ok adesso non ho giocato 30 rosso qui avrei vinto 30 rosso che adesso che faccio io io adesso vado a giocare ripeto pari parte della piccola serie i miei complimenti al quadrato nuovamente la seconda terza fila 5 50 fermiamoci così ma sto giocando dei carrè quindi massimo che venga 8 dove saperlo quando punto quando vengo quando spendo in totale che la mia speranza è fare il numero pieno ma non il carrè il carrè sarebbe recuperare il numero pieno 36 per vincere 36 il mio numero perfetto perché fa parte dell'ultima rabbina del 9 però 19 19 e ancora sta uscendo tutto giù ok signore adesso per la legge del di quello che manca io ripeto serie però miei complimenti a tutti voi vincitori stavo dicendo invece dovete conoscere la come ho fatto la ruota 36 grazie ma di fianco 35 34 36 sono andate qui le scommesse sono racchiusi grazie scommesse chi lo aspettiamo 36 coperto 13 nero niente 13 nero 36 signori 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 ci sono ricostrando il 13 nero numero basso dispari appartenente dove sta ogni numero? miei complimenti a tutti voi vincitori come già sapete le scommesse sono ora riaperte grazie a delle vostre puntate grazie questo qua 36 abbiamo l'11 vedete 11 e 30 quindi se volessi giocare il 36 un cavallo fatto bene vado a giocare 11 e 30 non vado a giocare 34 35 ok perfetto adesso non sto giocando perché stanno uscendo altri punti quindi la mia sequenza non sto uscendo ho perso 15 euro 14 quindi vedete insiste allora adesso io sapete cosa faccio guardate signore e signori da una recente di questo rando al 14 rosso ci giochiamo questo passo pari appartenente alla zona orfanelli mi complimenti a tutti voi vincitori scommesse ora è giocato le due sezioni ok le più vincenti queste due giocato un po' di meno ok abbiamo giocato tantissimo le scommesse sono da 90 centesimi ok sto giocando 24 numeri o seconda o prima fila ok questa qui paga poco però posso farvi capire perché i numeri stanno uscendo una parte bassa adesso c'è lo 0 quello che non ho giocato quei signori mi fermo perché adesso ok stiamo avrei preso 36 euro avrei recuperato tutto anche al gioco dello 0 mi complimenti a tutti voi vincitori come già sapete le scommesse sono ora riaperte si piazzate le vostre puntate grazie adesso facciamo modalità padre pacifico vai 6 e 40 di gioco ho giocato i numeri dato bene del 9 grazie più due sezioni al recupero quindi cosa vuol dire 0,4,5,9,18,27,36 pieni poi ho giocato la fila del 2 fino a 35 da 1 a 34 ho giocato tutto quasi tutto davvero ok per recupero vediamo un po' ciò da fisso 1 rosso 8 e 40 ok recupero un po' di più ragione posso ripetere ok questo mi serve per prendere un 36 quindi adesso quindi se ho ricordate ricordatevi qui il 36 11 30 il 9 che c'è c'è un 31 22 quindi quelli numeri lì 31 22 36 11 13 30 sono quelli che mi interessano ok connessione scusate cioè signor per fare questi giochi dove permettervi di perdere 30 euro eh dovete giocare qui con almeno un 50 euro entrate altrimenti non giocare la roulette è così non si va lì per 5 10 euro non giocate cioè vi spiego non è che stiamo a divertirsi ci potete provare qui si può giocare anche 10 centesi però se potete vincere complimenti a tutti voi vincitori divertirvi allenarvi con pochi spicci sì però un attimo lo faccio io osate l'elasticità io l'altra sera stavo perdendo 600 euro poi ho vinto 4.000 non mi sono messo paura anzi ho raddoppiato ok queste sono cose che vi insegnerò grazie mille nell'area puntate chiuse che è successo qui guardate purtroppo la connessione mi ha tolto anche le puntate quindi vedete purtroppo orfanelli vicini adesso i giochi vicini giusto per farvi il 20 il 20 avrei preso qualcosina ok vicini vicini allora ci mettiamo 3.6 ok ho giocato tutti questi numeri qui queste signore oggi non sto applicando strategie sto facendo nulla solo per farvi capire come funziona la ok le strategie si applicano in base ai numeri che stanno uscendo l'ho detto qui adesso qui c'è una sequenza che sta uscendo ok adesso non posso dirvela però qui sta uscendo una sequenza precisa di numeri qui in basso e quindi la strategia cambia ok lo vedremo questo in ulama ok 9.60 bene perfetto abbiamo recuperato qualcosina restiamo il mio saldo sui 300€ di oggi bene ci vediamo nel video privato dove andiamo a vedere la strategia di gioco in base alla sala che sceglieremo in questo caso vediamo la strategia di gioco in base alla sala italiana questa sera perché appunto siamo su quello italiano quindi vi aspetto più tardi pubblicherò entro questa serata la mia giocata in diretta su ulama ciao a tutti e buona serata vediamo 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 Grazie.